Ciao, sono Romeo. Lavoro con Mario da 4 anni. In azienda rispettiamo le regole, così lavoro in sicurezza e mi proteggo dagli infortuni. Ciao, sono Mario. Nella nostra impresa la sicurezza è fondamentale. Così cresciamo insieme senza grattacapi e teniamo alto il nome dell'azienda che ho fondato. Ci impegniamo insieme. Perché la sicurezza è un bene di tutti. L'Unione fa la sicurezza. Regione.toscana.it slash lavorare sicuri. Come sono andato? Sicuro. Grazie.